Buongiorno. Buongiorno. Guarda che sforcizia. Guarda che sporcizia. Sì, certo, in ammollo. Fanno lessi. 3, 4... Sì, sì, signora, ma tanto di oggi. Il cotrino va bene ai scopi fiscali, ma siccome voi siete un ristorante dovevate farvi fare la fattura nella fattura inserire la provenienza il lotto, ok? e la specie in modo che avevamo una tracciabilità del prodotto ittico. Che cosa sono? Gamberi. I gamberi devono rimanere dentro il proprio la scatola originale dove c'è l'etichetta. Una volta scongelati, secondo le procedure dell'autocontrollo ci deve essere un'etichetta quando sono state scongelate e entro quanto tempo vanno consumati. E' un riferimento del lotto. Altrimenti, anche questa, non c'è tracciabilità di questo prodotto. Le collature di grasso. Sì. Lo vedete? Vedete quanto è sporco? Dov'è? Non c'è la ricetta. Pentole. Queste potrebbero comunque contaminare quello del prodotto che voi andate a lavorare. Prodotti che sembrano che comunque, voglio dire, non so la scadenza, sono anneriti. Ma l'abbiamo trovati all'interno delle celle frigorifere insieme agli altri prodotti destinati al consumo. Cioè, qui, se fate in questa maniera c'è il disco che vengono i topi qui dentro. Sì. Prodotti lasciati a macerare nei propri liquidi. Sì. Verranno tutti messi sotto sequestro. Cioè, che non sono i problemi. E quindi, non i problemi al consumo umano. Mazzaccolle, gamberi. Guardate, erano mazzaccolle e queste due gamberi. Allora, passiamo di qua. Il prodotto come si annerisce? Non è buono. Perché quando sono girati... Quindi sono passati già dieci giorni. Comunque... Senti... Gio, Gio. Qui c'è da chiamare anche l'asero. Buongiorno. Squadra R2. Roma. Operazione Metropoli. Ci occorre un numero di verbale amministrativo e di sequestro amministrativo, cortesemente. square. Mostra solamente. Scusate andate. Buongiorno. Google, life is aりますare anche un finestre par opanoclino. Come hai decía? Allora ho aver Habitato, incredible. Scendo guest. Parcoca Sanct sibling. Questo è il tonno, naturalmente il tonno è decongelato e ricongelato, poi c'è il salmone, questo è il tonno di salmone, gira, è tracciato? No, che è il trotterù? 26, 28, 6, 2020, prima, è scaduto, è scaduto, quello che è cos'è, riccio? No, no, 2020 è scaduto, 2020, metti lì, prodotti scaduti, vai, canne e pesce, cozze, presente prodotto non tracciato, 2021, questo è scaduto, è scaduto, questo è salmone fresco congelato, scaduto, allora, è intervenuto anche il zia, io non ho avuto, ah sì bravo, è questa roba leggera,